Passiamo agli spettacoli. Teatro Canzone a Novara per il debutto nazionale dello spettacolo Buena Onda con Rocco Papaleo. Al Teatro Coccia per il cartellone Varieta ci racconta tutto però Paolo Fumagalli. Una nave da croceo a misura di palcoscenico è salpata dal Teatro Coccia di Novara che ha ospitato la prima nazionale di Buena Onda. Il nuovo spettacolo di Rocco Papaleo qui nei panni di un animatore a tratti malinconico e più volte invitato dal comandante Giovanni Esposito ad essere più allegro nell'intrattenere il pubblico croceo a vista tra monologhi e canzoni. La malinconia fiora più volte. Diciamo che questa ricerca di essere contemporaneamente leggero, ironico e malinconico è un po' la mia ricerca espressiva perché mi sembra che questi elementi mischiati insieme possano offrire un'emozione ancora più grande. Mi divertirebbe di meno se fosse l'uno o l'altro. Lo spettacolo si inserisce nel filone del teatro canzone ma il filo conduttore è il viaggio che vi come spesso nei lavori di Rocco Papaleo. Diciamo che il tema del viaggio mi appassiona se consideriamo il viaggio nella sua come minimo duplice aspetto quello reale di spostamento e anche quello metaforico di cambiamento, di evoluzione, di possibilità di rinascere. Musica Musica Musica